Sarà una stagione difficile e complicata, però noi vogliamo ricominciare il nostro cammino. L'anno scorso è stata una stagione esaltante, bellissima da vivere, perché è stato un continuo di emozioni. Partita dalla vittoria della Supercoppa italiana, finita con il ritorno in Champions, dopo un cammino difficilissimo. Sappiamo le problematiche che abbiamo avuto durante il lockdown, siamo ripartiti ridotti all'osso, però ci mancavano quei punti importantissimi per ritornare in Champions League dopo 14 anni.